Ehi, ehi! Aspettate, aspettate! Signora, signora, la prego, puoi aiutarmi? No! No! Ok, ti porto fuori da qui, amico. Ok, ok, ok. Non so che fare. Coraggio, sergente, fuori! Ascoltami, se devi sbagliarti, voglio che tu lo facci adesso. Ok, adesso! Ti prego, amico, fammi un segno, qualsiasi cosa. Ti prego, Rick. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.